Buona sera e ben trovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura. Come sempre la cronaca è stato dimesso, il vigilante aggredito e derubato a Palazzo del Pero venerdì scorso. Questo prosegue la caccia ai rapinatori che hanno messo a segno un colpo da ben mezzo milione. Il servizio. Sta meglio ed è stata dimessa la guardia giurata, aggredita e derubata venerdì mattina alle prime luci dell'alba a Palazzo del Pero. Il 36enne, originario di Roma ma residente ad Arezzo, era stato portato in codice giallo all'ospedale San Donato. Dopo le prime indicazioni fornite dall'uomo, gli investigatori adesso potranno raccogliere altri dettagli dalla sua testimonianza. Vanno infatti avanti senza sosta le indagini degli investigatori, sia in Toscana che in Umbria, per mettersi sulle tracce dei rapinatori. L'assalto armato al portavalori sembra essere stato studiato nei minimi dettagli. I malviventi, almeno tre, sono entrati in azione attorno alle 6.30 sul luogo dell'imboscata nessuna telecamera. Poco prima dell'abitato di Palazzo del Pero, i malviventi avrebbero sbarrato la strada con una transenna, ancora non ritrovata dai militari, per costringere l'autista del furgone a passare dalla Via Vecchia. Poi il botto, probabilmente una gomma forata, che ha costretto il vigilante a rallentare. A questo punto l'assalto, da un ducato bianco, sono scesi due banditi incappucciati e con una pistola in mano, che lo hanno minacciato e picchiato con calci e pugni, prendendo cellulare e chiavi del mezzo, prima di abbandonare l'uomo in mezzo alla strada. Il furgone invece è stato ritrovato, svuotato, qualche chilometro più avanti sotto ad un ponte della Due Mari. I rapinatori sono scappati con le cassette metalliche contenenti il denaro. Il valore dell'area furtiva potrebbe sfiorare il mezzo milione di euro in contanti, destinati a banche ed uffici postali. Ancora cronaca, si intrufolava all'interno di spogliatoi, di palestre o campi da calcio e sgraffignava le carte di credito. A volte riusciva a mettere le mani all'interno delle auto in sosta, sempre con l'obiettivo di impossessarsi di carte di pagamento, che poi utilizzava in tempi brevissimi, ancora prima che le vittime si accorgessero del furto. Il ladro si recava poi negli esercizi commerciali del centro di Arezzo, acquistando prodotti di piccolo importo, che non richiedevano l'utilizzo del PIN o di altri sistemi di autorizzazione. Sfruttava al massimo la carta di credito e poi se ne liberava e ricominciava il giro. Proprio questa condotta criminale ha permesso una svolta nelle indagini dei carabinieri che il 29 febbraio scorso hanno individuato e arrestato il malvivente. Si tratta di un aretino di 32 anni, residente in provincia già pregiudicato per reati contro il patrimonio. La somma complessiva, indebitamente sottratta a varie persone, ammonta circa 1.900 euro. L'uomo adesso è in carcere e dovrà rispondere dei reati di furto, ricettazione e utilizzo in debito di carte di credito. I militari lo ritengono responsabile tra ottobre dell'anno scorso e gennaio di quest'anno di almeno 11 furti, tutti messi a segno in città. E adesso ci spostiamo in Valdichiana perché questa mattina è stato ricordato con una cerimonia ufficiale il sombritendente Emanuele Petri a 21 anni dalla sua morte. C'era per noi Chiara Sadotti. Non è criminalizzando le forze di polizia che facciamo un buon servizio al paese. Non è demonizzando le forze di polizia o delegittimando l'operato delle forze di polizia che noi facciamo un servizio al paese in un percorso di democrazia. Così la sottosegretario all'interno Nicola Molteni sui fatti di Pisa. Oggi a Castiglion Fiorentino per ricordare a 21 anni dalla morte Emanuele Petri, sovrintendente capo della polizia di Stato Molteni poi è intervenuto anche sulle parole del capo dello Stato Mattarella che aveva definito un affallimento l'uso dei manganelli. No, guardi, io credo che le parole del presidente Mattarella vadano rispettate e non vadano strumentalizzate. Io ho detto più volte che le forze di polizia italiane sono un baluardo a difesa dei diritti, sono un baluardo a difesa delle libertà, tra i quali i diritti a manifestare che è sacrosanto, il diritto a dissentire. Era il 2 marzo del 2003, quel giorno Emanuele Petri, durante un apparente controllo di routine sulla tratta a Roma-Firenze, si accorse di avere tra le mani due documenti falsi. Appartenevano a Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce, capi delle nuove BR. Petri fu ucciso in una sparatoria, il suo sacrificio medaglia d'oro al valore civile portò a recuperare elementi considerati decisivi per le indagini sulle nuove Brigate Rosse. Quel sangue che ha consentito di porre fine a quel terrorismo di matrice brigatista, insieme agli altri caduti della Polizia di Stato, rappresentano per noi la memoria viva, la memoria pulsante. Presente come sempre la vedova Alma Petri, che tiene vivo il ricordo del marito, soprattutto tra i più giovani. Da lei, moglie e madre di poliziotti, arriva un appello al rispetto della legalità. Loro hanno il diritto di protestare, ma anche i poliziotti devono sapere, i nostri ragazzi devono sapere che sotto quella divisa c'è un ragazzo come loro e quindi la massima legalità da ambo le parti. Ancora una notizia di cronaca, questa volta arriva da Pergine-Valdarno. Sette computer sono stati trafugati dall'Istituto di Pergine, che ospita le scuole elementari e medie. I ladri sono penetrati da un'entrata secondaria all'interno dei locali, rovistando armadi e cassetti in cerca del bottino. Il blitz è avvenuto di notte, il che ha consentito ai malviventi di operare indisturbati. Alla fine sono riusciti a rubare, oltre ai PC, anche materiale didattico e circa 3.000 euro in contanti trovati negli uffici. Sul caso stanno indagando i carabinieri. E adesso parliamo dei disservizi dei treni, perché il 13 marzo ci sarà la cabina di regia di Regione Toscana con Trenitalia, RFI e i sindaci del Valdarno, Aretino e Fiorentino. Vediamo. La data finalmente è stata fissata e non era più rimandabile dopo quanto accaduto in questi giorni, nei quali non sono stati pochi disagi per coloro che a causa di studio, lavoro o per semplice svago salgono in treno per dirigersi a Firenze. Si terrà infatti il prossimo 13 marzo la cabina di regia della Regione Toscana con Trenitalia e RFI, alla quale parteciperanno i sindaci del Valdarno, Aretino e Fiorentino. Ad annunciarlo Valentina Vadi, presidente della conferenza dei sindaci. Finalmente, il prossimo 13 marzo, incontreremo i vertici di Trenitalia e RFI. Dopo l'incontro con l'assessore regionale ai trasporti Baccelli lo scorso 18 gennaio, dove abbiamo avuto modo di esporre i tanti episodi di un disservizio ripetuto e continuo e a riferire segnalazioni, problemi, denunce e l'esasperazione crescente di chiuse regionali, abbiamo chiesto come primi cittadini di partecipare alla prossima cabina di regia. Nell'occasione sarà discussa l'ipotesi di riorganizzazione del servizio della tratta baldarnese e potremo esprimere la nostra opinione. La situazione prosegue dopo il preoccupante decremento e in termini di puntualità il dato disastroso negli ultimi due mesi del 2023 non sembra essere migliorata con il 2024. Anzi, nelle ultime settimane si sono registrati continui ritardi di treni, improvvise cancellazioni e mancanza di comunicazione. Speriamo, conclude la presidente della conferenza dei sindaci Vadi con la partecipazione a questa cabina di regia di portare non soltanto la voce del Valdarno ma di avere risposte concrete da Trenitalia e RFI per la risoluzione di queste problematiche. Come portavoce del comitato sono indignato che alla cabina di regia del 13 marzo con RFI Trenitalia e i sindaci del Valdarno, Aretino e Fiorentino oltre all'assessore regionale ai trasporti non sia stato invitato il comitato pendolari. Lo ha detto Maurizio Re, portavoce del comitato pendolari Valdarno Direttissima. È gravissimo, prosegue Maurizio D'Aretino, che i pendolari, che sono i diretti interessati dei disservizi ferroviari e che possono fare proposte concrete per la soluzione dei problemi siano totalmente messi da parte, ha continuato il portavoce. È incredibile che l'assessore Baccelli abbia ignorato la richiesta che il comitato aveva avanzato ufficialmente lo scorso 25 gennaio di poter essere presente al prossimo incontro che sarebbe stato convocato, così come è sconcertante. Prosegue che l'assessore non abbia mai risposto alle proposte avanzate dal comitato nell'unico incontro avuto l'8 febbraio 2023, quindi oltre un anno fa. E adesso parliamo della firma del protocollo tra la Guardia di Finanza per la tutela dell'economia legale con la Camera di Commercio. Vediamo. Dai metalli preziosi alla moda e il turismo, fiori all'occhiello dell'economia retina, al settore vitivinicolo ma anche farmaceutiche, vetro cristallo, eccellenza invece della provincia di Siena, questi i rispettivi principali distretti produttivi adesso al centro di un protocollo d'intesa volto da un lato a tutelare l'economia legale e in ultima istanza i consumatori. A siglarlo la Camera di Commercio di Arezzo e Siena e i comandi provinciali della Guardia di Finanza. L'obiettivo è quello di rendere ovviamente la libera concorrenza ancora più certa e avere la possibilità di poter tutelare le nostre imprese ma anche i consumatori. È una collaborazione che si stabilizza, si istituzionalizza direi, che è già in atto da tempo individuando poi i settori di specializzazione dei territori di Arezzo e Siena e dando anche la possibilità alle forze dell'ordine, in questo caso la Guardia di Finanza, di collaborare più strettamente sul territorio con il personale della Camera di Commercio a tutela di quegli imprenditori che svolgono la propria attività in maniera corretta. Sarà così rafforzata la collaborazione tra le due istituzioni attraverso scambi di informazioni. Perché in questo contesto il Corpo e la Camera di Commercio collaboreranno in materia di marcatura di prodotti soggetti a particolari requisiti di conformità e sicurezza, di etichettatura di prodotti tessili e in materia di codice al consumo. Potranno essere compiuti anche eseguiti dei controlli congiunti, avvalendosi dei funzionari dell'ufficio metrico della Camera di Commercio e, quando necessario, in relazione anche a verifiche sui metalli preziosi del funzionario dell'ufficio analisi della Camera di Commercio. Inoltre, mi piace sottolineare che col protocollo di oggi la Camera di Commercio si pone come punto fondamentale di raccordo tra il Corpo e le associazioni di categoria e favorirà quindi lo scambio di informazioni e di segnalazioni qualificate a tutela dell'integrità del tessuto imperditoriale della provincia di Arezzo. E sarà Castiglion Fiorentino ad ospitare la premiazione dei Maestri del Commercio organizzata da 50 e più, l'associazione a cui appartengono gli over 50 del sistema ConfCommercio. L'evento più atteso e amato del mondo del terziario si terrà domani alle ore 10 al Teatro Comunale Mario Spina. Circa 30 gli imprenditori della provincia di Arezzo che riceveranno, oltre al titolo onorifico di Maestri, le Aquile di Diamante, Doro e D'Argento a seconda dei loro 50, 40 o 25 anni di attività raggiunti nei settori di commercio, turismo e servizi. E adesso parliamo di politica perché il sindaco di Castiglion Fibocchi, Marco Ermini, ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura per le imminenti amministrative di giugno con la stessa responsabilità e umiltà che nel 2019 mi portò alla candidatura, appunto scrive il sindaco, ma con molta più consapevolezza del lavoro fatto e di quello che ci sarà da fare. Oggi accetto la richiesta rivoltami e mi metto a disposizione per il secondo mandato, aprendo alla candidatura a sindaco di giugno 2024 del nostro comune, conferma appunto lo stesso Ermini. E hanno preso ufficialmente il via ai lavori di realizzazione dell'impianto della struttura comunale di Poppi che ospita l'asilo nido gestito dall'Unione Comunale dei Comuni Montani del Casentino. L'obiettivo è quello di garantire 20 posti in più di cui 6 per lattanti entro quest'anno. Il progetto sarà realizzato grazie al finanziamento del PNRR di 420 mila euro vinto dal Comune di Poppi. Con l'ampliamento il Comune di Poppi raggiunge quindi il traguardo del 43% di bambini fino a 3 anni che possono accedere a sistemi di educazione e cura per la prima infanzia. E adesso passiamo alla pagina sportiva e vi proponiamo subito in apertura la presentazione della squadra Calcio A5 di soli preti, un'iniziativa tra l'altro unica in Italia che parte proprio da Arezzo. Vediamo. Pensare che un prete può giocare a calcio per la mentalità comune è una cosa un po' strana. La Chiesa deve fare parte della società per dare un punto di vista più chiaro perché la Chiesa deve vivere nella società non fuori dalla società. Sono pronti a scendere in campo nel vero senso della parola. Ad Arezzo infatti è nata la prima squadra di Calcio A5 di soli preti. Clericus Arezium, il nome è scelto. Nasce perché come Centro Sportivo Italiano volevamo veramente mettere i nostri parroci affiliati al nostro ente veramente in campo. Proprio per cercare di testimoniare la parola del Vangelo e quanto è importante fare sport nella nostra diocesi. Quindi è un progetto che abbraccia la prima in Italia tutta la diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro. Siamo contenti e onorati di avere anche il patrocinio del Vescovo in questa nostra rappresentativa perché il nostro obiettivo è veramente far sì che lo sport a tutto tondo possa incontrare la comunità. Non sarà solo calcio perché comunque nascerà anche come una polisportiva quindi di sport ce ne sono diversi. Per noi, almeno per lo sguardo della diocesi, della nostra chiesa l'orizzonte è quello pastorale quindi il fatto di una squadra di preti che può avere un certo richiamo vuole essere occasione per arrivare ai giovani e perché si possa scoprire lo sport come una occasione educativa di crescita, di aggregazione, di comunità. A guidare i parrocin campi un allenatore con un curriculum di tutto rispetto Mario Palazzi, ex calciatore dell'Arezzo, ha fatto il vice di Serze Cosmi in Serie A e in Champions League con l'Udinese. Sono curioso di vedere come si evolve questa situazione già dal primo allenamento vedremo che tipo di materiale calcistico avremo a disposizione sarà sempre una cosa interessante perché dal punto di vista sociale è quello che è più importante. Attualmente sono già dieci i religiosi che fanno parte della squadra. Con entusiasmo, con desiderio, con voglia anche di mettermi in gioco, di sperimentarmi e anche di vivere questa esperienza insieme ad altri confratelli che è ovviamente di apertura e di annuncio è una forma di annuncio sicuramente particolare ma efficace. Penso che sia un'esperienza che va anche al di là dello sport quindi l'affrontiamo anche con uno spirito veramente libero quindi siamo a disposizione del mister. Il primo allenamento ufficiale sarà giovedì 11 aprile mentre i primi incontri in amichevole sono già in programma da venerdì 12 aprile. Abbiamo avuto veramente tante telefonate non soltanto per la comunicazione ma anche per organizzare le prime gare ufficiali tra cui ci dovrebbe essere anche la Gendarmeria Vaticana che farà un amichevole contro la rappresentativa qui di Arezzo. Quindi le partite saranno tante già nel mese di aprile noi ci crediamo perché il nostro obiettivo è veramente far sì che la mission dello sport è quella di educare, sì, ma di educare i ragazzi e la comunità a quello che è il nostro mondo e l'importanza di far ripartire gli oratori. E adesso passiamo al calcio femminile. Riprende il campionato dopo la sosta. Le ragazze amaranto di Mr. Mike ricevono in casa il Genoa Woman nella diciannovesima giornata di campionato di Serie B. L'appuntamento è domenica 3 marzo allo stadio comunale Nedo Cuccoli di Castiglion-Fibocchi. Il calcio d'inizio è alle ore 14.30. Ma ascoltiamo le parole dell'allenatore. Abbiamo preparato la squadra nei migliori modi possibili. Immagino come tutte le squadre in Italia in questo periodo maschili, femminili, settori giovanili con questo clima che c'è in tutto il paese. No, preparazione abbastanza bene e la sosta ci ha dato la possibilità, l'opportunità di riprendere qualche ragazza che abbiamo avuto con infortuni. Quindi tutto positivo. Il fatto di non giocare al comunale non sarà negativo per me. perché alla fine abbiamo fatto delle buone prestazioni. Lì abbiamo giocato quattro o cinque volte, Lazio, Ternana. Quindi è un campo dove abbiamo fatto delle buone prestazioni. in questo periodo dell'anno magari sarà un po' pesante il campo però noi lo sappiamo bene. Sì, siamo preparati per questo. Dal calcio femminile al basket l'Amen BC Servizi Arezzo torna in campo contro il Dertona. L'obiettivo sono i play-off. esordio nella seconda fase per gli Amaranto che domenica ospiteranno alle 18 i Piemontesi. Il servizio. Archiviata la settimana di sosta all'Amen BC Servizi Arezzo si appresta a tornare in campo per la seconda fase del campionato di Serie B. La SBA, grazie all'ottavo posto conquistato nella prima parte di stagione, si è qualificata in play in silver. un girone da otto squadre che premierà le prime due classificate con l'accesso al play-off a promozione. Il primo avversario da incrociare per gli Amaranto è la Gulliver Dertona che domenica alle 18 sarà in scena al Palace Portestra. Dertona è una delle società che dopo aver raggiunto la Serie A1 sta investendo maggiormente nel settore giovanile facendo partecipare il proprio gruppo Under-19 eccellenza, fresco di secondo posto nella Next Gen Cup al campionato di Serie B dove i piemontesi hanno chiuso la prima fase a quota 24 punti. All'energia e alla qualità dell'avversario va aggiunto che Dertona in questa seconda fase partirà da otto punti contro i due dell'AMMBC Servizi ad ulteriore conferma delle potenzialità di questa squadra. Per tutti i sostenitori Amaranto sarà l'occasione per vedere sul parquet del Palace Portestra alcuni dei migliori prospetti giovanili presenti in Italia appuntamento dunque fissato per domenica 3 marzo alle 18. E questa era anche la nostra ultima notizia io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.